Immagina quello che sta sotto, che sfiga, sta là, no, basta, no, va che non è bene, va avanti così per giorni, fin quando generalmente il maschio più grosso, quello più... Diciamo che tutti i metodi sono corretti, ognuno deve trovare il proprio, la propria voce, questo è quello che sto usando io perché io sono così, quindi io sarei incapace di raccontarti una cosa seriamente al 100%, per quanto seria possa essere. Questo è il mio tone of voice, il modo in cui faccio le cose, però secondo me ci sono tanti modi diversi per far arrivare lo stesso messaggio ed è importante che si percorrano tutti in parallelo, in modo da arrivare a quante più persone possibili e a bacini di utenza diversi, specialmente quando si parla di tematiche importanti come la crisi ambientale. Quindi io sicuramente sto cercando di farla arrivare, mi sto impegnando tantissimo nel veicolare questi messaggi al mio pubblico e alle persone che non ne sarebbero propriamente interessate ma vogliono farsi una risata. Quindi io provo, ironizzandoci tanto sopra, a far arrivare il messaggio a quelle persone, però ci sono anche persone che ne parlano seriamente, arrivano ad un altro pubblico, persone che ne parlano ancora meno seriamente, lo fanno arrivare ad un altro pubblico. L'importante è parlarne, però sì, si può fare ovviamente, ci provo almeno. Non era uno spettacolo che io pensavo avrei portato in giro per tutto questo tempo, abbiamo fatto quasi 100 repliche di questo spettacolo, è stato uno spettacolo veramente, devo dire, che è piaciuto tanto, infatti quasi due anni. Questa è l'ultima data, il tour si sarebbe concluso a marzo, però ho aggiunto quest'ultima data perché ci tenevo a farlo ancora una volta e era nato per caso perché io pensavo che sarebbe stata una sorta di conferenza da fare una o due volte, massimo tre, però era piaciuto particolarmente e quindi me l'hanno iniziato a chiedere. E da allora è diventato uno spettacolo molto articolato e molto più elaborato, è diventato più complesso. Nella prima data era uno spettacolo di un'ora e venti, nell'ultima era uno spettacolo di due ore e mezza, cioè, vuol dire, si è evoluto con questo percorso, però per me è stato importante perché mi ha fatto anche capire un pochino cosa ho voglia di raccontare e come farlo, perché comunque l'esperienza teatrale è un'esperienza particolare. Io venivo da un tour precedente, avevo fatto un altro spettacolo che si chiamava Il Genio Non Esiste, che poi è diventato podcast, libro, audiolibro, però questo era nato con un intento un po' diverso e ho visto che mi piaceva molto, è molto diverso dallo spettacolo precedente e ora sto scrivendo Il Prossimo, però basandomi su tutta l'esperienza che ho guadagnato facendo questo tour. Però davvero è nato per caso, era nato perché volevo raccontare determinate cose e sapevo che certe cose sul web non potevo raccontarle, perché per quanto il web sia libero ci sono comunque cose che non si possono dire nemmeno lì. Invece qui posso farlo. Se vieni al mio spettacolo puoi aspettarti di tutto e io non mi do alcun contegno. A questo punto deve cercare una femmina, deve convincere a non lasciarsi avvicinare, non è facile, le femmine sono gigantesche, hanno fame, sono mostruose, sono incazzate, deve convincere a non lasciarsi avvicinare, deve capovoggiare, deve trovare l'orifizio giusto, non l'ha mai vista una femmina da vicino, fa schifo e gigantesco, deve trovare l'orifizio giusto, prendere la pallina e... Che poi è anche una mossa di Street Fighter. Nel tour del 2018-19, quello che stavo portando in scena, il genio non esiste, ero a Palermo e mi avevano detto che quel giorno c'era la conferenza dei terapiattisti e io non ero là apposta e per ridere con un'amica ho detto vabbè andiamoci. Era nato tutto con l'idea che io stavo girando, facendo delle ripresine, facendo una live, perché c'erano le prime live di Instagram e lì Instagram stava iniziando a sperimentare questo nuovo mezzo. Ho detto vabbè ci faccio una live e stavo mostrando un pochino cosa succedeva lì, poi però stando lì mi sono reso conto che stava succedendo un po' di tutto. Poi ho perso un sacco di tempo nel montare il video, inizialmente pensavo che annoiasse addirittura le persone e quindi non volevo pubblicarlo. Però ci avevo perso un mese a montarlo, la conferenza dei terapiattisti era durata 5 ore, avevo una quantità di materiale disgustoso, solo per montare tutto quanto e smaltire il materiale ci ho messo. Quindi a un certo punto ho detto vabbè solo per onorare la quantità di tempo che ho investito dietro questo progettino che anche se non interessa a nessuno lo pubblico. Ho scoperto che le persone interessava ma non è stata una cosa troppo voluta. Infatti alla fine del video io spiego che non era mia intenzione infierire su determinate situazioni, però è importante mio parere capire anche come queste cose succedano perché alla fine ci viene da ridere dei terapiattisti perché alla maggior parte delle persone arriva come un'assurdità. Però la dinamica che porta una persona ad essere terapiattista è la stessa dinamica che porta una persona a credere ad altri complotti. Il fatto che nella tua testa sembra una cosa plausibile. Molto spesso sembra una cosa plausibile esclusivamente perché non hai le competenze su quel campo, su quella materia e non c'è niente di cui vergognarsi. Io ho delle competenze che riguardano la mia disciplina, non ci capisco niente in un sacco di altri ambiti perché non sono il mio campo di competenza. Io so che ho un sacco di bias mentali in cui cado perché ci sono cose che mi hanno detto da quando ero piccolo o cose di cui sono convinto per ragioni boh e quando poi mi confronto con delle persone esperte di quel settore mi devo ricredere. Questa dinamica esiste ed è importante comunque far vedere nell'assurdità, nel grottesco a volte di queste dinamiche che questa cosa comunque è presente nell'animo umano, possiamo caderci tutti quanti e quindi ricordarcene sempre in modo da evitare di fare questo errore anche in situazioni più importanti come ad esempio anche la crisi climatica. Perché lì c'è il complottismo che riguarda il negazionismo climatico e tutto quello che ne consegue che al momento è molto problematico perché ne pagheremo tutti le conseguenze. Mi sento fortunato nell'essere finito nella parte giusta, manco la parte giusta, la parte ok del mondo e delle amicizie. A volte anche semplicemente, cioè so perfettamente che chiunque, io compreso, se avessi frequentato o mi fossi trovato a vivere determinate esperienze, perché no, forse potevo diventare anch'io un complottista, avrei rifiutato tutto ciò che riguarda la scienza, è una dinamica che è presente nell'animo umano, qualcuno ne è più propenso, altri meno, però di base è lì, quindi riconoscerlo ci aiuta a capire e anche a dire ok, sono meglio, forse anche più fortunato, semplicemente quello. Ci sono delle tematiche che poi toccano chiunque più da vicino, sono più emotive, dipende anche dal tuo circondario, dall'esperienza personale, da quanto ne capisci di quel settore, da quello che hai sentito in giro, è tanto, tantissimo, a volte è incontrollabile e non è una questione di intelligenza, non è una questione di preparazione, è una questione umana, però alcuni sanno e quindi partono con i piedi di piombo, dicendo vabbè ho sentito questa cosa, vediamo, approfondiamo, cerchiamo, proviamo a capire, questa cosa mi sembra un po' strana, altri invece sono un po' più emotivi e quindi a volte cadono in quello. Allora l'indipendenza 100% mantenuta, non sono una persona che scende troppo volentieri a compromessi, quindi la cosa che ho dovuto imparare a fare, ci sono voluti anni, è imparare a fidarmi di altre persone anche nell'aiutarmi nella preparazione dei contenuti, perché ovviamente lì dove io perdevo un mese nel preparare un singolo video adesso sarebbe un problema, perché nel frattempo ho 100 milioni di altre cose da fare, se vado a fare uno spettacolo, non sono in casa per due giorni, se ho un nuovo libro da pubblicare, se ho un podcast da fare, un programma televisivo da scrivere, poi ho un secondo canale in cui sto pubblicando tantissimo, mi devo iniziare ad affidare le persone, quindi ho iniziato a circondarmi di persone, alcune le ho dovute formare, altre erano persone di cui mi fidavo ciecamente, che mi danno una mano. Dal punto di vista della scrittura c'è qualcuno che mi aiuta, ma non per tutto, scienza brutta scrivo io da ogni singola parola perché ci tengo, così come i libri ovviamente, però per dire adesso abbiamo preparato un programma televisivo che uscirà a breve, abbiamo dovuto scrivere 12 puntate in 10 giorni, e lì prima ho detto a un collaboratore aiutami tu a scrivere, poi ci siamo resi conto che non ce la facevamo in due e ho messo in mezzo un altro, alla fine siamo diventati 5 che stavamo scrivendo in parallelo, perché ti devi rendere conto che da solo non ce la puoi fare. Il montaggio mi stanno aiutando tante persone, perché anche quello sarebbe stato un problema, io ci mettevo pure a montare scienza brutta, ad esempio, tre settimane, adesso che è diventato sempre più complesso e che voglio che la qualità migliori ancora, so che se voglio fare tutto da solo ne esce uno all'anno, e comunque siamo lì, nel senso che l'impegno è un po', ci ho messo un sacco di mesi a scriverlo. Quindi sì, da quel punto di vista io sono felice di poter dire che non è che sono sceso compromessi, però ho imparato a espandere questa festa ad altri e fidarmi di altri, perché è molto importante, se vuoi fare tante cose diverse. Però è tutto esattamente quello che avrei detto, fatto, se fossi stato da solo. Semplicemente adesso posso fare e dire più cose che è importante e nient'altro.